Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati sul mio canale. È un po' che non faccio video e volevo un attimino fare due chiacchiere con voi, giusto per aggiornarvi, e poi ci dedichiamo all'argomento vero e proprio di questo video. Allora, è da un po' che non faccio video da qualche settimana, perché la settimana del 25 aprile sono stata in Sardegna, sono andata giù per vari motivi, tra cui fare una sorpresa alla mia amica Laura, ciao tesoro, che qua su Youtube la potete trovare come Art Decory. Mi raccomando, andate a visitare il suo canale, perché lei fa tutte cosine bijoux a mano con il fimo e un mucchio di altre tecniche molto carine, fa cose molto pucciose e carine, e mi raccomando, andate a guardare le sue creazioni. Allora, sono stata una settimana giù in Sardegna, è stata una settimana veramente intensissima, e sono contenta di aver potuto vedere dal vivo la mia amica, con la quale per tutto il resto dell'anno mi sento solamente tramite telefono, messaggini, eccetera, eccetera. Abbiamo trascorso tre giornate bellissime insieme, abbiamo fatto delle gite, mangiate, eccetera, eccetera. E niente, poi è successo che mentre ero in Sardegna, mi è venuta fuori una forte allergia alle mani, perciò poi quando sono tornata qua a Genova, ho dovuto fare un bel po' di visite per vedere di risolvere il problema, o comunque cercare di capire cosa fosse la cosa che mi ha fatto scatenare tutta questa allergia. E niente, adesso ho avuto un pochettino di cosine da fare, poi a breve farò il compleanno e devo organizzare un po' di cosine. Quando sono tornata ho preso parte da alcuni eventi che si sono tenuti qua a Genova, alcune prove ticuri gratuite, alcuni eventi nei vari negoziati e farmacie. e niente, sono riuscita a registrarvi un video solamente oggi. Oltretutto è una giornata bruttissima perché sta diluviando, sta diluviando veramente forte, e infatti ho tenuto la finestra chiusa perché sennò si sentiva rumore. E niente, direi che come aggiornamento più o meno queste sono state le cosine. Adesso volevo passare all'argomento vero proprio del video, ovvero ai nuovi prodotti di Natura Equa. Allora, di Natura Equa vi avevo già parlato un po' di anni fa, se non erro, più o meno quando è nata Natura Equa. Natura Equa è un brand genovese e io sono molto orgogliosa di questa cosa. Conosco personalmente Luigi Barbieri, che è la persona che ha fondato il marchio, colui che crea ogni singolo prodotto e c'è dietro al marchio. e ci incontriamo tipo sempre quando io vado agli eventi o vado alle fiere. Noi ci incontriamo sempre e sono molto contenta perché è una persona che stimo molto, sia per il suo lavoro sia per la sua persona. Qualche settimana fa ci siamo sentiti, mi ha contattato lui, mi ha chiesto se ero disponibile a recensire alcuni dei suoi nuovi prodotti e io ho accettato volentieri e principalmente sono molto contenta per il fatto di portare avanti e fare pubblicità ad un marchio ottimo genovese. Allora Luigi come ultimi prodotti ha lanciato una linea dedicata ai capelli, in particolare 4 shampoo e 2 balsami. Adesso aspettate che li leggo un attimino dal cellulare perché se no non ricordo. Ha lanciato 4 shampoo tra cui lo shampoo al teatrì per capelli grassi, lo shampoo alla lavanda antiforfora, lo shampoo al baobab per capelli secchi e trattati, lo shampoo alla lizea per lavaggi frequenti e per quanto riguarda i balsami, ne ha lanciati 2, ovvero quello al baobab super nutriente e quello alla lizea super ammorbidente. Quando ci siamo visti io e Luigi mi ha lasciato questo bel paccozzo. Per quanto riguarda la mia recensione e il mio video io vi parlerò nello specifico dello shampoo per lavaggi frequenti alla lizea e del balsamo super ammorbidente in coordinato. poi all'interno del sacchetto che mi ha consegnato mi ha lasciato un po' di campioncini che Stay Tuned potrebbero essere messi in palio in un prossimo concorsino e mi ha lasciato la sua solita cartolina di natura equa con scritte i loro principi fondamentali, ovvero cosmetici naturali di alta qualità, ingredienti locali a chilometro zero, bio ed ecosolidali, packaging ecologico. Io mi ritengo una sostenitrice attiva di natura equa anche per il fatto che l'Orche Luigi comunque ha un'azienda improntata sul fatto di rispettare gli animali e infatti i suoi prodotti sono curter free e comunque per il fatto che i suoi prodotti, i suoi packaging sono a basso impatto ambientale per quanto riguarda sia le formazioni, sia il packaging e sia il modo di comunicare. Lo shampoo alla lizea si presenta in questo flacone di plastica, il flacone è in plastica vegetale al 100% come è scritto qua in fondo all'etichetta e se vedete il prodotto è molto liquido, solitamente gli shampoo più tradizionali sono molto densi invece questo è particolarmente liquido. Al momento l'ho utilizzato solamente una volta, ho usato entrambi i prodotti solo una volta e mi sono piaciuti. In particolare mi è piaciuto da matti la fragranza, penso che sia proprio della lizea che è una fragranza molto aggrumata, mi ricorda molto il limone. Questo shampoo in particolare promette di far diventare capelli setosi e morbidi senza rinunciare al volume e ovviamente è un prodotto naturale senza SLS, OGM, derivati petrochimici, parabeni e siliconi. Inoltre questo shampoo è perfumato esclusivamente con oli essenziali naturali. Volevo darvi due o tre indicazioni a riguardo della lizea. Allora, sto leggendo qua da cellulare perché sennò non riesco a ricordare tutto a memoria. La lizea è una pianta del sud-est asiatico, si presenta come un albero sempre verde e nella tradizione popolare si dice che crei un legame con gli angeli e viene chiamata Meichang, ovvero richiamo all'angelo. La ragione di questa leggenda è facilmente deducibile. L'izea è un sedativo riequilibrante neurovegetativo, antidepressivo e ansiolitico naturale. Aiuta a combattere le paure, le fobie, l'insonnia ed il nervosismo creando un'armonia interna ed esterna a sé. Perfetto per un risveglio pieno di luce e per una doccia rinvigorente molto adatto ad essere diffuso negli ambienti di studio e lavoro dove aiuta a contrastare la stanchezza ed a cuire la concentrazione. Ovviamente in questo caso parliamo dell'olio essenziale. Allora, la lizea può essere usata per combattere l'azione del tempo sulla nostra pelle e prevenire i rilassamenti cutanei. È consigliato diluire il suo olio essenziale in un olio vegetale in una proporzione che comprende una parte di olio essenziale e nove di olio di base per un massaggio che doni buon umore e energia. Infine vi volevo elencare i benefici dell'utilizzo della lizea sul nostro fisico ovviamente ce ne sono moltissimi. Tra tutti quanti i più importanti sono che aiuta a sostenere il sistema immunitario prevenendo i raffreddori. È un antivirale, stimola la digestione, è un tonico per il cuore e l'apparato respiratorio, contrasta le infiammazioni dei legamenti e agevole trattamenti dei reumatismi. Ovviamente ci sarebbero molte altre informazioni da dire sulla lizea. Vi volevo far vedere se riesco solamente un'immagine della pianta. Allora, la pianta produce... Questi sono i fiori della pianta. Questa dovrebbe essere l'immagine della pianta della lizea. E questa è un'altra immagine nel dettaglio dei suoi fiori. Per quanto riguarda il balsamo super ammorbidente, è sempre formulato con la lizea. Promette di districare, nutrire senza appesantire i capelli. Inoltre, sull'etichetta, consigliano anche di unirlo alle erbe tintorie per un effetto super facente. Io per il momento l'ho utilizzato soltanto per le lunghezze dei capelli dopo aver fatto lo shampoo e mi è sembrato un buon balsamo. Ovviamente queste sono solamente le mie prime impressioni. Il balsamo in questione, a differenza dello shampoo, si presenta come una vera e propria crema piuttosto morbida. Non so se potete... Non so se si può notare qualche cosa. Bene, direi che questa per iniziare è soltanto una preview. Non lasciatevi ingannare dal mio video. Anche se conosco Luigi di persona, sappiate che se devo dirgli che è una cosa che non mi piace, gliela dico tranquillamente. Infatti mi ricordo che tutte le volte, le prime volte che mi incontrava per strada, mi diceva Ah sì, tu sei quella che ha detto che il mio latte detergente si divide. E mi prendeva in giro. E gli dicevo Però, insomma, in ogni caso, secondo me, le aziende, se funzionano, è grazie anche a questo. Io ti dico che una cosa, secondo me, non va bene, va migliorata e tu ti impegni a riformularla. E io infatti sono molto contenta di essere sua amica anche per questo motivo. Perché lui fa tesoro di tutti, tutti, tutti i commenti che noi consumatrici facciamo. Ne fa tesoro e lui si impegna a riformulare e a migliorare sempre i suoi prodotti. Ci vediamo poi con il video di recensione. Non è detto che non vi beccherete anche un video di applicazione. Perciò, state sintonizzati. E niente, io direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere se avete già visto nei negozi i prodotti di Luigi, se li avete già provati, cosa ne pensate. Se avete qualche commento, qualche suggerimento da dare a Luigi, scrivetemi un commentino qua sotto. Che ovviamente io riferirò tutto quanto. E anche ovviamente relativi a tutti gli altri suoi prodotti. Lui ovviamente fa tesoro di tutti quanti i commenti relativi ad ogni suo prodotto. E niente, io direi che per oggi è tutto. Grazie di aver visto il mio video. Se ti piace, pollice in su. E ci vediamo alla prossima. Ciao!